Oggi abbiamo niente poco di meno che l'élite di quella che una volta quando c'ero io era proprio l'élite dell'oratorio e di varie congreghe e oggi abbiamo niente poco di meno che il capo scout Gianluca eccolo qua eccoci qua ciao Mizzu ciao a tutti buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori intanto grazie per avermi dato l'opportunità di partecipare alla vostra trasmissione appunto come dicevi mi chiamo Gianluca io sono un capo della comunità capi del castano primo della branca rover escolte quindi diciamo coloro che terminano i loro i ragazzi che termineranno poi il loro percorso scout a 21 anni chiedendo poi se continuare a fare servizio come capi nell'associazione oppure se fare servizio per il mondo quindi in altre associazioni e via dicendo certo ascolta giusto giusto tanto per rievocare i miei tempi perché oggi no ieri a dire la verità sto parlando con un mio amico no gli faccio ma sai che forse viene il capo scout e lui fa i lupetti lupetti faccio mi sai dire come si sta si svolge adesso perché io l'ho fatto quando ero giovane quando ero piccolino io addirittura il lupetto non l'ho fatto ma adesso c'è ancora come prima i lupetti gli scout le guide faccio prima un piccolo resoconto dai ci sono tutti le branche che tu hai detto quindi lupetti che vanno dai sette anni in poi il reparto che sono dai 12 13 anni in poi e la branca rs che è dai 16 anni fino ai 21 in più ci si sono aggiunti almeno su castano ed è una piccola chicca del nostro gruppo i castorini che sono i piccoli scout che fanno praticamente le stesse precise identiche cose che fanno i lupetti che fa il reparto e che fa il clan quindi i pernotti le uscite le riunioni e anche un proprio campo mamma mia bello 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 ma fanno ancora quelle cose che si faceva ai tempi no per cui le varie uscite no va bene noi andavamo tutti i boschi i fiumi le di due giorni tre giorni quello se tutto è invariato si rimane tutto invariato ovviamente per i castorini il campo è di sette giorni anche del reparto anche la ruta estiva e a maggior ragione adesso con il discorso covid l'associazione ci ha chiesto di sfruttare il al massimo gli spazi aperti appunto per evitare poi problematiche riguardanti al covid quindi ancora maggior ragione si va alla madonna di gre si va al ponte tibetano si va ai tre salti o la base di oleggio adesso non so ma ma quando si faceva quando si fanno più giorni no adesso c'è tipo il campo estivo ma fate ancora come facevamo noi costruivate tutto la cucina si costruisce la cucina il tavolo ma allora si tende a fare tutto quello che è la pionieristica quindi le sopraelevate forse quest'anno no per esempio per per il discorso covid ma è una situazione momentanea speriamo e a maggior ragione il gemburi che è il famoso forno per fare il pane scout l'altare insomma la pionieristica è rimasta tutta per quello che riguarda il reparto sui castorini ovviamente la base è il gioco perché avendo una terrenata è il gioco che poi proseguirà nei lupetti in una fascia un po più in una fase un po più di responsabilità in quanto c'è la caccia la preda le specialità e via la progressione personale inizia nei lupetti anche se già ne c'è nei castorini con le code che vanno dal bianca alla nera allora qua guarda ti dico subito una cosa faccio io un appello perché allora sai che io insegno anche karate no e spesso e volentieri da me se io si molto la fascia dei bambini piccoli molti genitori portano i loro figli no e tutti mi dicono no perché lo portiamo qui perché c'è una filosofia perché voi me lo devi raddrizzare me lo devi educare me lo devi fare è vero il karate è una bella filosofia di vita però appello a tutti i genitori che hanno dei figli piccoli portateli a iscriversi a fare i lupetti gli scout perché lì sì che c'è anche la vera vita c'è la vera una vera filosofia soprattutto con valori e principi c'è anche la squadra perché visto che non è cambiato niente c'è sempre il vice capo nel capo squadriglia c'è tutto un piccolo gruppo e dove il bambino comunque impara veramente a gestire ad autogestirsi cosa che magari ultimamente diventa sempre più difficile per cui un appello proprio portateli e iscriveteli perché ragazzi è lo scout è da fin da piccoli dei lupetti a crescere è sempre una cosa ottima giusto confermi sì aggiungo solamente che il metodo è sempre lo stesso da cent'anni a questa parte che è stato copiato un po' diciamo così anche dal metodo Montessori e che è quello di dare la responsabilità al ragazzo stesso quindi guida la tua canoa bravo e quindi no poi ci si divertiva un casino perché poi cerca le segui le impronte cerca che foglie sono queste piuttosto che quell'altro il fatto di dormire in tenda di dormire tutti insieme le tende sono ancora come le di una volta sì sono le gembori da otto posti ovviamente per il covid non possiamo sfruttarle tutte e quindi lo spazio ovviamente diventa più piccolo nel senso che se non erro dovrebbero essere tre o quattro per tenda quest'anno non di più per garantire proprio il non assembramento ma scusa una cosa così mi è venuta adesso ma si dorme ancora sul materassino o si portano le brandine? sacco a pelo, no no sacco a pelo, stoino, gavetta la gavetta ce l'avevo la gavetta la borraccia e quindi tutto il titolo a ripetere il metodo è da cent'anni che c'è, funziona si adatta perché non si modifica ma si adatta e permette al ragazzo sui tre punti di scoperta, competenza e responsabilità per tutte le branche che sia dai castorini che sia per gli RS di essere indipendente, autonomo di essere in contatto con la natura, di sapersi lavare una gavetta a sei anni che non è da poco, non è da tutti diciamo, soprattutto adesso anche a casa, insomma dare una mano a casa e soprattutto cosa che è uscita quest'anno soprattutto nella regione Lombardia è avere un senso di protezione civile perché lo scautismo è la base della protezione civile giusto i più grandi hanno fatto dei corsi specifici, noi capi, io ad esempio sono in pattuglia di zona come protezione civile ma non per questo i più piccoli non lo fanno perché se sanno che non si fa un fuoco sotto una pianta se sanno che la plastica la devono emettere a parte della carta se sanno che non devono buttare il cibo oppure la semplice buona azione è un discorso di base di protezione civile quindi di un senso civico certo, certo saranno le lupette, ci sono le ragazzine, le bambine allora, sì, le abbiamo ne abbiamo però ahimè poche soprattutto nella fascia di età tra i 7 e i 15 anni quindi il reparto, forse perché il genitore si fa già un po' intimorire nell'indipendenza perché ovviamente il ragazzo quando è fuori per un pernotto non gli è consentito chiamare a casa ci siamo noi capi che se dovesse succedere qualcosa interveniamo ai miei tempi non c'era il problema perché non c'era il telefonino esatto, perfetto, era ancora meglio e poi magari perché il discorso sono un po' legati al discorso del nome Boy Scout che non è più Boy Scout ma è solo Scout adesso e dal discorso dei lupetti e non delle coccinelle però i lupetti sono sia maschietti sia femminucce i castorini, ci sono i castorini, le castorini per cui ragazzi, ritorno all'annuncio di prima che sia maschio, che sia femmina vostro figlio, vostra figlia mandatelo perché negli Scout si può solo crescere per Scout diciamo tutta la famiglia guarda comunque la mia famiglia siamo in tre io, mia moglie Roberta che la conosci e mia figlia tutte e tre negli Scout una cosa familiare addirittura loro quando mangiano a cena mica accendono il fornello loro il fuoco in cucina allora Gianluca abbiamo raccontato come è adesso un po' tutti gli Scout ma i progetti io so che adesso molti progetti sono cambiati rispetto a quelli che facevamo noi ai nostri tempi la visuale si è molto ampliata dai raccontaci qualche progetto qualche idea qualche cosa diciamo che quest'anno ovviamente come dicevo ci siamo dovuti adattare a quello che è stato il periodo di pandemia quindi cioè i più piccoli fino al reparto sono stati fermi durante la zona arancione e la zona rossa la GESCI che è la nostra associazione ha emanato un protocollo covid che ci diceva per filo e per segno cosa fare cosa di non fare durante le le varie fasce di colori i più fortunati siamo stati noi del clan perché potevamo operare anche in zona rossa in quanto il servizio era comunque sia un'esigenza della comunità mentre gli altri sono riusciti a rivedersi da qualche mese a questa parte diciamo che già il BP Day abbiamo fatto qualcosa sulla città di Castano ci siamo un po' sganciati da quello che era il target del Baden-Powell Day cioè il lasciare il mondo migliore di come abbiamo trovato ricordiamo che Baden-Powell per chi non lo sa è il fondatore e quindi cosa è stato fatto è stato fatto un abbellimento sul parco di Via Gemona che il comune ci ha dato come progetto mentre sia per quello che riguarda il reparto i lupetti mentre per quello che erano i castorini hanno fatto un disegno da portare agli anziani della casa di riposo noi come clan abbiamo supportato quasi tutto l'anno sia come servizio individuale sia come servizio di unità la Caritas quindi nella preparazione dei pacchi nel scaricare quando serve il furgone che arriva da Milano e anche con il banco alimentare che è stato fatto da poco nonché dalla raccolta tappi che stanno facendo in oratorio quindi andare a raccogliere i tappi in Piemonte perché stanno facendo un finanziamento per un progetto loro dell'oratorio che è sempre collegato all'associazione Aurea che era già stata qua e in fondo adesso abbiamo concluso con un'attività vera e propria di servizio con i carabinieri del comando di Luino che ci hanno fatto sistemare un pezzo di sentiero che porta a Monteviasco che è questa località che è stata tagliata fuori dal mondo in cui loro vivono 365 giorni all'anno dalla funivia che non funziona più e quindi ci siamo recati lì e abbiamo dato una mano a sistemare un pezzo di sentiero questo è proprio un ritorno alle origini perché se qualcuno fosse curioso e volesse approfondire basta che va a comprare qualsiasi libro delle origini di Baden Powell lo scoutismo era proprio questo era quasi un gruppo militare alla fine con tutti i valori diversi ma che comunque andava a operare per la gente e questa fase qui un po' si era persa quando l'ho fatta io era diventata molto più educativa e basta invece adesso vedo che insomma collaborazione con i carabinieri andare a operare proprio sul territorio lavorare con le associazioni per cui il famoso motto insieme si può fare rete sembra che almeno a Castano sia stato molto ben recepito a questo punto sì sì anzi dobbiamo ringraziare i ragazzi che si sono spesi veramente tanto perché comunque si hanno fatto paradossalmente più attività di quelle che sono previste diciamo dal metodo sia su Zoom per quello che è la formazione del carattere quindi noi siamo un'associazione cattolica comunque sia facciamo anche un percorso fede e quello si può fare tranquillamente su Zoom sia poi sul servizio al prossimo e tutto il resto che l'hanno voluto fare in presenza e anche al di fuori delle normali numeri di attività quindi noi abbiamo anziché sì è vero abbiamo chiuso settimana scorsa l'anno scout però ci siamo visti dopo per i tappi ci vedremo ancora per altri servizi certo allora Gianluca ritorniamo un attimino allora prima stavamo parlando così hai detto la divisa ma effettivamente la divisa ritornando al discorso che dicevo all'inizio il fatto di essere una squadra il fatto di dare degli insegnamenti e tutto la divisa è una cosa molto importante il full are identificativo di ogni squadriglia di ogni paese dai raccontaci allora allora Misu devo dire non è la divisa perché la divisa divide ma è l'uniforme perché rende tutti allo stesso piano e allora la divisa è colore azzurro che è il colore degli scout in Italia della Gesci della federazione italiana scout penso che io ce l'avevo ancora grigia ai tempi anch'io l'avevo grigia addirittura lupetti verde quindi è vero perché lei Misu era ancora in bianco e nero eh sì dopo questa io me ne posso andare e niente poi ci sono i pantaloncini in velluto blu classici le calze sono blu anche loro scarponcini ma ci sarebbe il cappellone le pece non mi ricordo più come si chiamano la promessa che è a sinistra che è il giglio che lo mettiamo sul cuore ovviamente perché noi abbiamo fatto una gli scout faranno poi la promessa nel reparto che varrà tutta la vita tanto c'è il detto semel scout sem per scout cioè una volta scout scout per sempre per sempre e poi mi dicevi appunto delle famose io lo dico in maniera brutta le patacchine non sono le patacchine perché hanno tutto un simbolo sul lato destro abbiamo il simbolo della regione quello del gruppo Castano Primo sul lato sinistro si mettono le famose specialità le specialità ecco le specialità o i brevetti per quello che è il reparto specialità ce ne sono tantissime c'è cuoco c'è pioniere c'è maestro dei giochi poi ci sono appunto le squadriglie con le loro bandiere i roni le pantere i falchi via dicendo i leoni i castori e poi c'è la fiamma che è quello appunto che vince la squadriglia al campo estivo e che è il simbolo vero e proprio del reparto tanto che quando si legge il Vangelo in Chiesa la fiamma viene alzata esatto e poi per i lupetti anche lì ci sono le sestiglie i bruni i rossi i neri i bianchi i grigi e via dicendo invece per quello che riguarda la branca RS la branca RS oramai non ha più una struttura verticale quindi capo vice capo e la squadriglia ma è una struttura orizzontale perché non ci sono più le squadriglie ognuno è capo di se stesso e quindi non ci sono più brevetti e via dicendo questo non vuol dire che quello che hai acquisito prima come esperienza e come competenza diciamo che la branca siamo già a un livello anche di età adulta sì sì adulta esatto bisognerebbe bisognerebbe mettere canti scout io mi ricordo la classia madonna degli scout e poi quell'altro signor delle schierate il canti il canto scout fa parte della formazione del carattere del ragazzo e di una certa tradizionalità quindi ci sono canti scout come appunto madonna degli scout che è vecchissima quindi se l'abbiamo cantata noi che abbiamo almeno io 50 anni quindi ha i suoi begliani e già esisteva però viene tramandata anche questo è un discorso che se noi andiamo a vedere al giorno d'oggi il bello dello scoutismo è che dà delle tappe se noi andiamo a vedere il ragazzo partendo dall'asilo arrivando fino alla terza media non ha più esami quindi non ha più tappe da fare lui si ritrova proiettato dall'asilo direttamente al primo esame che è quello delle medie mentre noi comunque sì avevamo già delle tappe da fare e quindi avere anche un po' di tradizionalità non guasta quindi c'è ricordare io ero nei lupetti quel giorno ho cantato quella canzone come facciamo delle danze come facciamo delle scenette le scenette bellissime il famoso bivacco fuoco di campo cioè ci si ritrova la sera prima di andare a letto attorno a un fuoco vero e proprio e ogni squadriglia ogni sestiglia o di noviziato propongono dei giochi propongono dei canti propongono delle scenette a tema anche perché adesso parliamoci chiaro e diciamo andando a fare un campo estivo perché l'invernale è già diverso ma il campo estivo che si sta fuori magari dieci giorni quindici giorni una settimana o quello che è che si va non in campeggio ma sperduti su una montagna piuttosto che in un posto ben definito e ben isolato fra virgolette isolato perché comunque magari è qualche un chilometro dal paese però comunque quando arriva un certo orario che finiscono le attività del giorno giochi e tutto non è che ti puoi metterli accendere la televisione o guardare telefoni devi fare socialità devi stare lì per cui o ti inventi queste cose o veramente diventa pesante puoi passare la serata anche perché appunto una delle cose basi ovviamente che noi non avevamo ma adesso c'è è che il telefonino non è permesso al campus se non che è solamente per i capi ovviamente e per i capi squadriglia e poi stare tutto intorno al fuoco una chitarra una cancia pim pam le scarpe pim pam di notte fanno sul sentiero di pietre grossi sono momenti che poi nella vita che tu rimanga scout oppure no sicuramente te li ricorderai perché non è da tutti comunque sia come dici tu fare una cosa del genere quindi c'è c'è anche il bello della tradizionalità quindi dei canti scout che non sono tutti nuovi ma ce ne sono molto belli anche nuovi ma anche di quelli un po' datati che però si portano appunto nel tempo caro Gianluca è stato un piacere vi ringrazio ancora a tutti per avermi dato la possibilità di spiegare un po' quello che sarebbe da veramente da perdersi tantissimo tempo sullo scoutismo ma in poche parole è quello che facciamo nella nostra quotidianità ma il cielo è sempre più blu grazie a tutti